Sento come si è iniziato molto da qui. Magari se tu lo dici a un egiziano pensa che è nel Nilo o un indiano nel Gange. A me sembra che è nato più tutto. E qui chissà quanti anni hanno queste rocce. Ma un milione di anni fa secondo me era così qui, non era diverso. Magari c'era qualche dinosauro, poca roba. Il fiume ha sempre ragione, anche il mare, anche il vento. Grazie a tutti.